La fotografia da molti anni è una parte veramente importante della mia vita, anzi devo dire che senza la fotografia non sarei mai riuscito a scoprire tante parti di me che sono veramente molto molto importanti. Ho iniziato a fare fotografie quando andavo in terza superiore, avevo più o meno 17 anni e non ero mai stato un grandissimo appassionato né della fotografia né del mondo dei video, però ho avuto modo di parlare con una persona, un fotografo professionista che lavorava per Vogue e lui in due ore ha preso delle fotografie di fiori che io facevo così all'inizio per passarmi il tempo nel mio giardino e per due ore con quelle fotografie è riuscito a parlarmi della luce, delle emozioni, dei colori, di cosa significasse veramente fotografare e di cosa veramente significasse cogliere l'attimo e cogliere il momento e da lì ho realizzato che effettivamente la fotografia non era una questione di tecnica ma è soprattutto una questione di filosofia di vita e soprattutto di cuore. Per i primi anni della mia vita sono sempre stato un ragazzo introverso, molto timido e devo ammettere che grazie alla fotografia e al contatto con le persone, con le culture che sono riuscito veramente a diventare una persona molto più aperta, aperta a nuove esperienze, aperta a nuove sensazioni, nuove ricerche, nuove scoperte e grazie a questo cambiamento quindi grazie a questa arte sono riuscito a creare uno studio che giri proprio su questi valori, questi valori che per me sono molto importanti, valori che sono la passione, cioè ovviamente qualsiasi lavoro per me deve essere fatto con tutta la passione possibile non esiste per me un lavoro dove non metto passione, piuttosto non lo faccio e lo cedo a qualcun altro. La seconda cosa molto importante per me è la scoperta, cioè io voglio, anzi io mi impegno per far sì che ogni persona che chiede le mie fotografie o che chiede un video da me possa ricevere non solo il prodotto che mi ha chiesto ma anche dei consigli o qualcosa di nuovo come può essere l'utilizzo di una nuova tecnica o l'utilizzo di un nuovo tipo di materiale a cui lui non è a conoscenza perché non è il suo campo ma che effettivamente può rendere la sua esperienza molto molto migliore. E la terza cosa che per me è anche fondamentale è la cultura in tutti i sensi, ovvero la cultura del viaggiare, la cultura dell'essere aperti e conoscere nuove popolazioni, non solo fotografarle, per esempio a me non piace mai arrivare in un posto nuovo come può essere stato il mio viaggio in Colorado, il mio viaggio in Groenlandia e tirar fuori la macchina fotografica il primo giorno, penso che sia una cosa veramente sbagliata. A me piace vivere 3-4 giorni nella popolazione, in quella cultura, che sia una grande città o che sia un popolo sperduto, capirli, capire fin dove ci si può spingere con loro come loro ti vedono e come vedono il tuo lavoro e poi cominciare a rappresentarli con il mio stile e come è nella mia testa in quel momento. Non solo cultura del viaggiare però anche cultura dello studiare. Penso di spendere molto più tempo nel guardare le fotografie di altri fotografi, nel guardare libri di fotografia e andare a mostre piuttosto che quello che spendo probabilmente nel ricercarmi nuovi clienti o nel consegnare lavori. Io ho una storia che è abbastanza particolare perché non mi sono appassionato a un tipo di fotografia e l'ho sviluppata fino a farla diventare il meglio. Io sono stato, devo dire, molto fortunato perché quando ero molto giovane e quando ho cominciato a fotografare, appassionarmi a quest'arte, ci sono state due persone per me molto importanti che sono stati il direttore della Pt della Val di Fiemme e un giornalista del giornale Ladige che mi hanno introdotto a queste due realtà e mi hanno iniziato a far fare qualche foto. Non so neanche io perché, perché in realtà non so come si facesse a credere in me quando le mie foto erano sfocate, mosse, composte male e io non avevo neanche una grandissima cultura di quest'arte. Però, insomma, loro hanno creduto in me e questa cosa per me è stata veramente una grandissima fonte di ispirazione. Cioè, ho capito che effettivamente se si crede nelle persone e le si lascia libere, molto spesso portano delle grandissime soddisfazioni. Come dicevo, poi la mia crescita è stata molto particolare perché un cliente come la Pt non è un cliente che ti obbliga a fare un tipo di fotografia come può essere il cibo, i ritratti, lo sport, ma è un cliente che ti richiede tutto e questa cosa per me è stata veramente la più importante perché non mi ha focalizzato su una materia tralasciando le altre, anzi mi ha stimolato a dire non so mai domani che servizio mi fanno fare, quindi è meglio studiare tutti i tipi di fotografia. Ho cominciato anche a ricercare delle nuove soluzioni e una cosa che mi piace molto è cercare di essere il primo nel proporre ai miei clienti qualche nuova soluzione. Come ho detto all'inizio di questo video, la fotografia mi ha aiutato a cambiare molto il mio carattere e mi ha aiutato anche a scavare nelle mie paure e a riuscire a farmele passare. Sono passato dagli sport classici agli sport estremi praticamente in tempo zero, penso che siano gli sport più genuini perché nello sport estremo non si cerca la medaglia ma si cerca se stessi, cioè si cerca se stessi in una condizione dove gli altri non riescono a trovarsi e quindi questo per me è veramente un punto meraviglioso. Ho organizzato la mia prima spedizione, spedizione molto estrema, ho preso un gruppo di sei amici, due telecamere, un drone, qualche attrezzatura di arrampicata su ghiaccio una slackline e siamo andati ad arrampicare degli iceberg in Grellandia. La passione e l'amicizia ti fanno arrivare veramente in alto, infatti questa spedizione ha avuto successo a livello internazionale, noi ne siamo molto contenti e personalmente mi ha anche fatto capire che più si fanno queste spedizioni, cioè più si cerca di fare qualcosa di nuovo nella vita, più ci si impegna al massimo con questo e più arrivano delle belle soddisfazioni soprattutto inaspettate, cioè i premi, i riconoscimenti, tutte queste cose arrivano quando meno te lo aspetti e quindi bisogna semplicemente andare a cercarli, produrli e farli girare tutto quanto quando si mette al massimo della passione, dell'impegno, tutto questo resta. Mi chiamo Federico Modica, ho 26 anni, sono originario della Val di Fiemme dove attualmente vivo e la mia professione è quella del fotografo, del regista e soprattutto del ricercatore di immagini e di nuove esperienze.